Ciao a tutti, sono Nicolò, uno degli istruttori della scuola di Mountain Bike Adventure. Rispettando le nuove normative abbiamo deciso di reprire i nostri corsi in Mountain Bike Junior e per ragazzi. Vi aspettiamo quindi il 19 maggio a partire da 17.30 per il successo sportivo alla barca. Ovviamente ci stiamo organizzando per garantire la sicurezza di tutti e le distanze. E quindi gambe pronte e testa accesa. Ciao!